Dottoressa, buonasera, sono felice. Il papà di Gabriel Pulone, sì, buonasera, scusi se la disturbo. Senta, volevo un consiglio, io non so più cosa far fare a Gabriel per farlo sfogare un pochino. Sì, è sempre in casa. Ok, mi consiglio di fare dello yoga. Yoga, sì, semplice per bambini, ma yoga in modo che butta fuori le energie negative e trattiene le positive. No, no, chiaro, chiaro, chiaro. No, 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 certo, anche a me piace lo yoga. Io e lo yoga siamo... Va bene, dottoressa. Certo, certo, certo. Sì, sì, il solito del sole. Grazie, grazie mille, buonasera. Grazie, dottoressa. Salve, salve, grazie. Yoga, certo, ma perché non ci ho pensato prima? Grazie a tutti.